C'è molta arroganza e molta ignoranza rispetto a questo problema, come sempre, perché le persone si permettono di giudicare a priori indipendentemente da come realmente sono poi le cose. Il gioco d'azzardo che noi clinici definiamo gambling è una vera e propria patologia, rientra nel manuale diagnostico, è nella categoria delle dipendenze patologiche e noi psicologi lo trattiamo esattamente come tutte le altre dipendenze. Quindi i percorsi terapeutici, i percorsi reabilitativi sono pressoché gli stessi rispetto alle dipendenze da sostanze, da alcol o da psicofarmaci per esempio. Quindi è una cosa che non va assolutamente presa sotto gamba e soprattutto non bisogna essere così scettici e così criticoni come siamo spesso in maniera molto superficiale rispetto a un problema che non è un vizio ma è una patologia. Grazie a tutti.